Benvenuti allo studio di Marco Foroni, siamo già pieni carichi di ospiti, andiamo subito con il nostro primo ospite, o meglio partiamo subito da Graziano Cesari con il suo gran bel tablet ad analizzare l'azione più saliente di questa giornata di campionato. Vai Graziano! Ma ciao Marco, allora andiamo ad analizzare subito la prima azione di gioco che si è sviluppata in questa giornata di campionato. C'è Zeko, Zeko stoppa il pallone di petto, la tira giù col piede e poi si tira giù i calzoncini e tira una scoreggia. Questa scoreggia, secondo il signor Valeri, la è da sanzionare. Per me è giusta l'espulsione, ma il signor Valeri qui lo armonisce, perché dice che la scoreggia non puzzava. Proprio per questo, per me, il signor Valeri perde un punto nella classifica dei migliori auditi. A te in studio! Grazie, grazie Graziano! Grazie Graziano! Andiamo invece con il nostro ospite qui in studio, ci ha raggiunto da Milano Massimo Moratti! Ciao Massimo! È giocatore simpatico, Zeko. Per me, proprio per questo, non dovete andare a monito, però è giocatore simpatico. Poi, per me è simpatico, ma che impressione il signor Valeri, no? Bene, grazie Massimo! Andiamo adesso! Mi dicono che c'è un collegamento? Sì, c'è un collegamento! Abbiamo creato un collegamento con il presidente della squadra AC Milan, lui, Silvio Berlusconi! Chibio, salve a tutti! Per me, invece, l'azione del signor Dzeko non è sanzionabile. Non è sanzionabile perché, ha ragione il signor Valeri, se la scorreggia non puzza, per me è giusto non espellere. L'ammunizione dipende, perché c'era bella rumorosa, allora lì potevamo ragionarci e l'ammunizione è giusta. Però se era bella silenziosa, allora lì, secondo me, l'ammunizione non è da dare. Insomma, in questi casi, secondo me, bisogna essere in campo. Comunque, forza mila! Grazie Silvio, grazie della tua presenza. Adesso abbiamo un altro ospite in studio, ci ha appena raggiunto, c'è lui, c'è Mario Balotelli. Ciao Mario! Ma sì, per me Zeko ha fatto bene. Secondo me doveva togliersi proprio tutti i pantalocini e far vedere tutto quello che aveva. E lì, per me, il signor Valeri è una testa di cazzo. Perché non puoi ammonire o espellere un giocatore perché ti tira fuori i pantalocini. Eh? Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Bah, che calcio di merda, sta diventando un calcio di merda. Adesso se ti toglie la maglia ti ammoniscono, ti toglie i pantalocini ti buttano fuori. Se ti togli le scarpe che cazzo ti fanno nel gastro? Va bene, grazie Mario. Invece l'ultima, l'ultima opinione. Andiamo con l'ultima opinione. C'è lui? Sì, lo vedo, direttamente da Sky. Incredibile, c'è Peppe Bergomi. Sì, ciao Marco. Guarda, secondo me è invece Zeko, ha fatto bene. Guarda come lascia andare bene il pantalocino. Se togli proprio il pantalocino ti raggiunga una scorreggia della Madonna. Per me è giusto l'espulsione. Va bene, con questo abbiamo chiuso. Per me invece Zeko doveva essere espulso perché secondo me era rumorosa, come dice Silvio. E puzzava, come dice invece il nostro Graziano. Quindi dalla Premium Arena è tutto. A voi la linea per la prossima partita. Ci vediamo belli. Iscrivetevi al canale perché Marco Foroni ci tiene per la Premium Arena. Bella.